Ciao a tutti, buon inizio di settimana, focus sul Bitcoin, bentornati su Scattacole Trend in borsa, ogni giorno nuove analisi su tanti asset, è giusto anche ogni tanto fare il punto sul Bitcoin che tra sentiment, attesa delle elezioni americane, correlazione con gli indici azionari che sono sui massimi e anche con l'analisi tecnica, insomma il tutto ci fornisce degli indizi che sembrano dire che la forza del Bitcoin sia lontana dall'arrestarsi, ma partiamo con il vedere un articolo di Antonio Ferlito su investing.com, il nostro amico e collega Antonio che si chiede Bitcoin raggiungerà 90.000 dollari entro la fine dell'anno? Beh sono vari i dati che vengono proposti in questo articolo, il valore totale delle criptovalute Bitcoin scambiate sulla borsa americana degli ETF ha raggiunto i 2.4 miliardi di dollari, è un segno che la cripto si trova in un momento di grande prosperità sul mercato, diciamo che adesso si è attestata sopra ai 60.000 dollari per singolo Bitcoin da oltre 3 mesi e interessante vedere come BlackRock sia in sostanza il fondo di investimento con il maggior possessore di Bitcoin al mondo, circa 20 miliardi di dollari e effettivamente questo conglomerato impressionante di BlackRock ha puntato pesantemente sul Bitcoin. La situazione dei tassi di interesse, sappiamo che ormai la Fed ha iniziato il taglio e comunque che sia graduale, che sia lento, che sia più veloce, comunque i tassi andranno a diminuire, questo chiaramente va tutto a beneficio tutto a beneficio del Bitcoin e anche essendo alle porte delle presidenziali americane vediamo come ci siano delle sponde a favore del mondo cripto da parte di entrambi i candidati, in primis Trump che in maniera più pressante aveva aperto al Bitcoin ma ormai anche la Kamala Harris sicuramente va a dare tutto il suo appoggio. E se andiamo a vedere la situazione proprio grafica con analisi tecnica sul Bitcoin su investing.com qui abbiamo voluto inserire il time frame settimanale per eliminare il cosiddetto rumore dei fondi. Vediamo, siamo quasi a 65 mila dollari e abbiamo avuto dopo i massimi in area 73 mila e 500 questa fase di ritraccio, questa fase classica di consolidamento perché essendo sul settimanale tutto il movimento rialzista era partito dal 2022 quando quotava circa 16 mila dollari. interessante notare proprio la correlazione tra Bitcoin e azionario perché nel 2022 come ricorderete abbiamo avuto tassi a rialzo da parte della Fed per contrastare l'inflazione che proprio nel 2022 era partita a rialzo con una fiammata impressionante quindi alzare tassi ha dato il via alla debolezza dell'azionario mondiale nel 2022 e eccoci qua anche del Bitcoin. ora quello che possiamo in maniera molto molto semplice andare a evidenziare è questo movimento assolutamente ripido ed evidente di uptrend e possiamo anche andare a evidenziare un'altra cosa utilizzando proprio una figura classica di analisi tecnica. talvolta la price action vedete non ho inserito né medi mobili né indicatori né oscillatori talvolta la price action in maniera molto semplice ci dà delle indicazioni davvero importanti qui abbiamo la più classica delle flag rialziste peraltro molto molto pulita non occorre inventarsi nulla di particolare c'è un movimento che già a occhio sembra assolutamente evidente pulito geometricamente ben conformato cosa cosa ci suggerisce beh proprio come l'analisi tecnica vuole ci suggerisce che andare definitivamente sopra i 68 mila dollari quindi sopra alla parte alta della del drappo chiamiamolo così della bandiera potrebbe dare come analisi tecnica vuole il movimento rialzista classico che avrà come target proprio la estensione che avevamo sulla asta della bandiera e quindi semplicemente proiettandola così eccoci che vediamo come un obiettivo di medio periodo potrebbe essere proprio area 100 mila dollari che sembra assolutamente una calamita nel lungo periodo per per questo per questo asset e vediamo in teoria mantenendo la stessa identica inclinazione potrebbe essere un obiettivo raggiungibile nel 2025 qui ci da marzo ovviamente con tutta la tolleranza e la statistica del caso ma le impostazioni bullish sembra davvero evidente e si può utilizzare per cercare di sfruttare al massimo le notizie del mondo bitcoin ma in generale del mondo finanziario investing pro lo strumento di investing trovate in descrizione il link per abbonarvi con una scontistica davvero importante beh qui abbiamo voluto ad esempio mettere sotto la lente real platforms quindi la società di mining più importante proprio in merito al bitcoin si può chiaramente cercare di fare trading o di fare portafoglio con l'asset cioè con il bitcoin ma perché no anche con società che effettivamente lavorano il bitcoin beh su investing pro abbiamo una serie di dati davvero esaustivi davvero a largo raggio con la situazione degli analisti con la situazione dei principali dati di bilancio con quello che è il fair value quindi il possibile valore giusto in base a 11 modelli di investimento per i quali si va poi chiaramente a fare a fare una media ed eccoci qua e in questo caso la situazione ad esempio proprio su real platforms che quota 8,41 per azione ci restituisce un possibile fair value di 10,34 e quindi ci dà una sottovalutazione del 19,9% rispetto al fair value quindi quindi il valore attuale più basso del 17,9% rispetto al fair value che è la media di questi 11 modelli di investimento abbiamo il target di 14 analisti e quindi poi abbiamo una serie di altri dati quindi vedere se dà o se non dà dividendi i valori più importanti di bilancio per cui abbiamo conto economico, consumali trimestrali e tantissimi dati ma altrettanto interessante è la sezione che prende il nome di idee di investing pro dove si può andare a vedere una infinità di etf di gestori che mostra tramite questa finestra tutta quella che è la rendicontazione negli ultimi tre anni ad esempio ecco si parte chiaramente con il principe siamo su Warren Buffett se vogliamo vedere la situazione di quello che è il lavoro del nostro oracolo di Omaha cliccandoci sopra abbiamo innanzitutto le maggiori holding insomma su che cosa punta Warren Buffett è il percentuale ogni azione che Warren Buffett ha scelto pesa sul suo portafoglio e altrettanto interessante a vedere negli ultimi cinque anni ad esempio come Warren Buffett abbia battuto l'SP500 che qui è rappresentato in giallino mentre in blu c'è il risultato dell'attività del portafoglio di Warren Buffett ma ne abbiamo davvero tantissimi tra i più importanti Bill Gates oppure un portafoglio di dividend champion sono le azioni che hanno pagato dividendi più elevati per almeno 25 anni consecutivi e vediamo come negli ultimi tre anni abbia realizzato un eccellente più 52% e anche il buon Ray Dalio con performance davvero degne di nota fino ad esempio a vedere eccoci qua interessante Marvin Palmer è un investment management con sede eccetera 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 e si può sempre andare a vedere tutto quello che è la risultanza rispetto al benchmark quindi l'SP500 con con quelle che è il posizionamento in portafoglio e la ratia percentuale ecco che quindi Investing Pro offre davvero una serie infinite di opportunità anche la sezione filtro ecco ad esempio possiamo scegliere un dato qualunque quindi ad esempio avere il beta a 5 anni il beta sappiamo essere quell'indicatore che ci avvisa se l'asset scelto è rispetto al suo benchmark più o meno volatile e quindi possiamo poi andare a scegliere tanti altri parametri per avere poi una lista di dati di titoli azionari di asset che possiamo mettere in watchlist in base ai nostri criteri ossia vogliamo un rendimento dei dividendi maggiore di e qui possiamo mettere un certo dato che ci interessa quindi possiamo davvero sbizzarrirci andando a scegliere il settore fa parte di beni di consumo discrezionali, energetici possiamo davvero scegliere di tutto quindi assolutamente andarci a creare la nostra lista assolutamente varia e con gli asset più importanti che ci vanno a interessare è importante sempre ricordarsi di sfruttare al meglio quello che è Investing Pro creandoci una lista perché perché effettivamente nella lista ci da subito ci da subito quelli che sono i dati più importanti per avere a colpo d'occhio la situazione della nostra watchlist e scegliere velocemente poi su che cosa andare a puntare e quindi assolutamente occhio al bitcoin che dopo il primo movimento rialzista potrebbe effettivamente andare a dare un altro strappo per avere una ripartenza di medio periodo assolutamente da cavalcare trovate in descrizione come dicevo il link per andare a abbonarsi con una scontistica importante la potete vedere proprio cliccando sul link per un anno a Investing Pro e avere poi quindi in maniera professionale i mercati sempre aggiornati con i dati che ci interessano per utilizzare l'analisi fondamentale insieme all'analisi tecnica un saluto a tutti vi invito a scrivere come avete fatto nei video precedenti nei commenti gli asset che volete vedere analizzati e già domani li vedremo insieme a quelli che avete scritto nell'ultimo video un saluto a tutti buon trading e alla prossima